è grosso è grosso sono più grandi di damage e infatti devo capire se sono le magliette che mi fregano l'angolo un po' di due alla fine sicuramente di gambe credo che ti batto va bene allora facciamo così la prossima volta che ci vediamo ci vediamo nella leg press va bene ma voglio facciamo una competizione io e te comunque siamo tutti vestiti molto bene devo dire infatti ti stavo per dire che bel hoodie che c'hai anche la chitarra dietro si è messa il cappellino figo hai lasciato l'altra però la telecamera lì poverino vabbè c'è un casino l'altro ce l'ho a casa preferivo evitare di portarmi 18 cappelli a presto allora io oggi volevo registrare un video speciale un episodio speciale del podcast lo farò uscire prima di tutti gli altri già registrati lo farò uscire il 25 quindi tutti gli ascoltatori lo staranno ascoltando il 25 giovedì se non sbaglio vero black friday manco per il cazzo perché è giovedì però ci sta assolutamente quindi proprio oggi sarà ci sarà il lancio di kaizen alle 20 giusto? giusto alle 8 di stasera quindi a bomba il link lo trovate in descrizione subito il primo link che trovate è quello dovete correre lì e a seconda di quando state ascoltando l'episodio dovete iscrivervi alla lista prioritaria oppure se è già partito il lancio correte lì perché finirà tutto perché ci sono mega sconti parlatevi un po' di questi sconti fuori di testa la prima volta sì allora innanzitutto grazie per averci invitato sul podcast Piacere e per dare un po' di background io e Sammy siamo così terribili con i tempi né io né Sammy siamo bravi organizzatori ok? non l'avevo notato diciamo così diciamo così no siamo veramente terribili infatti scusaci un sacco siamo stati parecchio incasinati perché abbiamo letteralmente ricevuto i pacchi all'ultimo minuto come al solito invece tu puoi pure fare due tre mesi in anticipo tutto e poi comunque comunque puoi star sicuro che se si tratta di roba fisica ci saranno i ritardi è proprio una legge di sto mondo e quindi sono arrivati i pacchi tardissimo ce l'abbiamo fatta andare a Roma purtroppo volevamo organizzare una cosa con tutti gli ambassador anche con te eccetera è stato letteralmente impossibile organizzarlo e siamo andati da tre giorni abbiamo provato a invitare chi poteva prendere dei treni e arrivarci facilmente abbiamo fatto delle foto e sarà praticamente il nostro nuovo lancio della nuova collezione più tutti i super sconti per il Black Friday per provare comunque alle persone a renderlo accessibile a tutti anche chi non ci ha mai provato prima e volesse provare la qualità volesse supportare una start up per chi ha budget più grandi o budget più piccoli quindi quella è l'intenzione dietro dietro il Black Friday figo molto molto figo e mia intenzione con questo episodio è anche presentare voi presentare appunto la vostra start up e perché è un progetto figo sono contento di farne parte da ambassador devo stare attento come parlo con i termini inglesi perché voi mi bacchettate per ora è per potte perché per adesso posso bomba e quindi vi ho portati per fare questo episodio anche per presentarvi ai miei iscritti alle persone che mi seguono e fargli capire anche perché ho accettato di far parte di questo progetto perché comunque c'è tanta stima e e sono contento di farne parte appunto proprio ieri è uscito sul canale il video unboxing in cui provo i vestiti e sono una figata colossale e volevo sapere proprio il processo che c'è dietro l'idea poi la messa in pratica quanta diavolo di gente è coinvolta in questa roba perché questi ritardi immagino che si sono dovuti anche per quello e un po' tutto il processo che c'è dietro la creazione di un prodotto simile sì l'idea è partita col fatto che volevamo creare qualcosa che in Italia forse ancora non ci stava in Italia ci sta molto merch rispetto a proprio abbigliamento merch vuol dire semplicemente magari pezzi già fatti magari da un altro brand che possono essere magari prodotti blank quindi senza etichetta oppure senza brand è partito se mi fermo scusate scusate sì alcuni termini sono in inglese ma lavoro soprattutto in inglese quindi a volte mi viene più difficile tradurre dovrei fermarmi metto sotto titoli vai vai se non capisci mi fermi e mi dici aspetta che cosa hai detto e traduco io in live tipo esatto facciamo così però lo sai anche tu hai visto altri altri cosiddetti brand sono molti praticamente con i loghi stampati e in Italia c'è soprattutto quello era più merchandise e invece noi volevamo provare a riempire un buco secondo noi in questa industria che era fare tutto da zero quindi con tessuti scelti da zero con il fit da zero con le etichette da zero letteralmente tutto da zero e appunto alla fine tu mi sembra che i primi lanci non ce l'abbiamo fatta a farti arrivare delle cose ma è bello per me vedere la progressione che c'è stata dal primo lancio perché il primo lancio era la prima maglietta ok che abbiamo fatto 3-4 campioni ma era tutto un mondo nuovo da scoprire quindi era ok questo tessuto com'è ok questo com'è va bene scegliamo questo perché mi piace di più e lo facciamo adesso siamo arrivati a un punto dove comunque abbiamo metti tra i 20 e i 30 tessuti potenziali da utilizzare ogni tessuto c'ha un color code quindi ha dei colori specifici e altri che non puoi fare con questo tessuto non siamo ancora a una scala dove possiamo creare il nostro colore da zero quindi quando sei su una scala che fai migliaia di pezzi per singolo capo con i produttori puoi probabilmente riuscire a sviluppare il tuo colore specifico in base magari a un hex code o quello che è noi ancora non possiamo siamo ancora piccoli quindi dobbiamo fare una scelta dei colori in base al color palette di ogni tessuto e questo è solo per quanto riguarda tessuti e colori e il grosso lavoro che c'è dietro in realtà è la creazione dei tech pack che sono praticamente dei technical packages che è letteralmente come se fosse tutti i dati che hanno bisogno i produttori per creare un certo capo quindi lì devi metterci l'etichetta devi metterci le misurazioni le tabelle delle misurazioni come scala tra le diverse taglie devi metterci i loghi come fare i loghi il colore insomma è praticamente come se fosse un pacchetto che dai a un produttore e sulla base di quello loro ti creano un campione ovviamente il campione dovrebbe essere perfetto non è mai perfetto quindi c'è il tech pack che è praticamente il pacchetto dati di ogni singolo capo facciamo i campioni il primo campione non va mai bene ad esempio arriva un diverso tipo di stampa del logo il logo può essere heat transfer può essere embroidered può essere pressed quindi ci stanno tante può essere screen printed scusa se mi traduci tanti non so però tipo una è tipo per esempio questo è ricamato no? è ricamato se può capire poi io mi immagino una signora col coso che ti cucisce letteralmente poi c'è quello 3D quindi quello è più stampato è tipo è quasi quel logo tipo a gomma che è quello della maglietta giusto? sì quello però c'ha un c'ha una spessore di 0.2 millimetri possiamo farlo pure a 0.3 o 0.4 oppure lo facciamo flat che è 0.1 0.05 e a me sarebbe piaciuto molto fare quello ma un po' più spesso però più spesso lo fai e più c'è il rischio che appunto quando lo lavi si toglie quindi ci sono tutte queste cose che ci vanno dietro perché alla fine vogliamo creare dei capi che però possono resistere anche a lungo potremmo benissimo fare la scelta easy stampiamo una cosa normale però dopo 5 lavaggi soprattutto se non li lavi retroverso e li lavi normalmente rischia che vedi che se ne sta si stacca un pochino perché è normale è gomma e invece quindi almeno per quanto riguarda le hoodie e i joggers che vogliamo fare una cosa un pochino più di qualità stiamo andando più verso il ricucito ricamato perché almeno non si toglie e dura più tempo sempre tenendo questa immagine di comunque essere minimalista come se noti comunque non ci piace mettere in vista che cosa chiaro molto bellino l'ha apprezzatissimo sì credo tanti infatti gli piace proprio vabbè siamo italiani ci piacciono le cose belle fatte bene abbiamo lo stile impresso sotto carne non c'è niente da fare e sentite a proposito di stile impresso di italiani di made in italy e cose del genere cioè da dove cacchio siete partiti qual è l'idea che scatturisce dal voglio iniziare a fare roba d'abbigliamento per il fitness sportiva comunque anche per uscire ma da quale base siete partiti perché proprio quello che esperienza avevate nel campo perché cosa chi dimmi di esperienza zero questo è importante dire via tante persone allora esperienza zero fino a un certo punto perché è stato anche divertente che alla fine anche qua abbiamo incontrato altre persone lussemburghesi con cui facciamo amicizia in palestra o altro e sono tutti abbastanza interessati e ci chiedono anche perché qua letteralmente hanno proprio una visione sulla nostra vita reale che magari sui social non traspare così tanto perché non è che ci mettiamo a mostrare i pacchi e che facciamo quello poi parliamo anche degli ultimi video che avete fatto per me è stato un piccolo sogno che ho sempre avuto da quando ho iniziato e io avevo provato a fare le magliette muscoli a vita questo forse quando stavo a Manchester quindi magari metti un anno e mezzo di YouTube ho provato a fare le mie prime magliette però lì l'ho approcciato molto diversamente era semplicemente voglio fare delle magliette fighe però non sapevo niente quindi era un po' tipo ok proviamo a contattare un produttore vediamo se c'è qualcuno che me lo fa con dei pezzi un minimo ordine che è il punto di partenza da cui partono tutti se non hanno esperienza è normalissimo sì e quello è stato un mega fallimento penso che su 100 magliette ne avrò vendute tipo magari la metà nel corso di un anno ok e quindi io da lì ero tipo ok ho fallito va bene e Sammy non c'era ancora qui? Sammy forse stava editando qualche video sì sì stavo non stavo con te però tu stavi a Bazzi io stavo a Londra credo forse ogni tanto mi passavi sì un video del tuo canale da editare ma in termini proprio di presenza sul canale no ancora no era primo era primo era quando anche io ero muscoli a vita non sì era muscoli a vita sì stiamo parlando di 4-5 anni fa quello che era poi l'hai tenuto comunque il come si dice il marchio muscoli a vita l'hai tenuto sì sì l'ho tenuto e adesso non so sto ancora considerando se ribrand tutto con Kaisen oppure no quello lo vedremo insieme più in avanti però praticamente appunto era un'idea che mi portavo a presto ci ho provato fallito per due anni ho avuto paura di riprovare perché ero tipo vabbè non lo so fare quindi non lo faccio e ancora però ogni volta era tipo c'era questa cosa che volevo provarci no volevo provarci perché per me una delle cose più importanti che dobbiamo fare soprattutto che siamo ragazzi è letteralmente provare perché questo è il momento dove i rischi sono minori c'è sempre il rischio ma abbiamo meno responsabilità quindi non dobbiamo pensare a famiglia eccetera eccetera no se vogliamo prendere i rischi adesso quindi io avevo questa cosa che sapevo che se non ci avessi riprovato avrei avuto un rimpianto e tipo avrei detto eh ma ammetti che ok quindi io sono un po' così la cosa peggiore io sono un po' così se mai penso tipo che in futuro ti do ammetti che cosa sarebbe successo allora meglio che ci provi così che non c'hai più rimpianto che vada bene non vada bene ci hai provato chiaro e proprio ieri tipo ho trovato una nuova tra virgolette definizione del fallimento che in realtà il fallimento è il successo di aver trovato una strada che non funziona quindi comunque fallire è sempre un successo cambiare la prospettiva esatto esatto e quindi da lì stavamo a Dubai chiusi in casa per il lockdown che ci ha colpiti mentre stavamo a Dubai dovevamo stare là una settimana ma hanno chiuso gli aeroporti quindi siamo stati là tre mesi questo nel 2020 e quindi da lì chiusi in casa stavo tipo vabbè ho tempo non devo fare niente stavo impazzendo perché stavamo in casa io e Sammy per tre mesi puoi capire che possiamo impazzire no? io stavo sul divano per tre mesi poi parliamo anche del percorso di fitness che sta intraprendendo o no non capisco cosa sta facendo Sammy però lo vedo molto più grosso e mi interessa questa cosa è grosso è grosso sono più grandi di damage e infatti devo capire se sono le magliette che mi fregano l'angolo un po' due alla fine ah ok sicuramente di gambe credo che ti imbatto va bene allora facciamo così la prossima volta che ci vediamo ci vediamo nella leg press va bene ma voglio facciamo una competizione io e te anzi ma ti io vi lascio io vi fico ho visto che spinge un sacco Sammy ma tu quanto fai scusa aspetto dopo allora dipende qual è il contesto da cui vuoi partire se vuoi fare una bella esecuzione pulita controllata un rom un rom qui ti devo bacchettare un po' ah no perché scusa allora in quel video dove ho fatto i massimali c'era la cosa che Giulia ha visto sotto il culo c'era quel peso che io io non lo uso ok magari non vado fino a tipo che non mi tocco qua però tipo ci arrivo quasi non rompete lui alza non rompete Mitch lui alza le gambe no per fare più glutei esatto io ce l'ho più alzata però c'è pure il rom che è tipo il mio è tipo un rom che scendo fino alla pancia comunque non cambia che faccio più peso di voi cioè se volete cercare questa scusa che tipo mi metto va bene se vi fa sentire meglio ok sei una bomba semi io in realtà questa cosa la sto dicendo perché ho paura ho paura di fare figure di merda come ti vedo per quello te lo sto dicendo dai quando ci becchiamo facciamo per bene va bene facciamo una sfida alla leg press sai la cosa assurda è che lui fa gambe nemmeno una volta a settimana no direi una volta ogni due settimane è forte di gambe basta di culo è un po' di tutto sì ho il culo africano e gambe africane ma lo usi anche per conquistare in giro per l'Ussumburgo non particolarmente no sono un po' qua hanno un po' paura dei culi grossi loro non ci hanno proprio ok e poi altre preferenze ci sono boh sì non lo so ma qua le ragazze non guardano a prescindere capito sono un po' tipo depresse tipo che si vogliono buttare da un ponte quindi non hanno tempo per guardare culi perché io ho visto anche gli ultimi video che stavate facendo e anche per quello allora che li state facendo vedo un Giulio più biondo del solito vedo un Semmi che ha fatto piegamenti che si è buttato cos'era uno stagno un lago quindi queste cose era un lago ma dove cazzo state andando cosa sta succedendo cosa sta succedendo come vengono queste idee cosa sta succedendo il Kaiser per le idee credo va tanto tipo che io e Giulio anche alla fine la ragazza di Giulio ci piace tanto parlare di idee e quindi a furia di parlarne tipo ci vengono queste idee un po' tipo così poi comunque per essere completamente sinceri questo formato quest'ultimo l'hanno fatto in tantissimi più tipo magari nel YouTube in inglese americano magari in Italia non così tanto però è un formato di così che è molto popolare va bene di solito e fa ridere è quello alla fine tanto del nostro contenuto adesso è fatto per intrattenere la gente per portarti un sorriso per darti quei dieci minuti che non sono io no che stai mangiando magari stai ritornando dal lavoro te la puoi tagliare un po' con noi questo è lo scopo maggiore che sto cercando di fare anche se infatti hai notato sono diventato molto più me stesso nel senso che sono molto più trasparente tipo dico quello che penso sono un po' quasi più volgare tra virgolette e credo la gente li piace infatti il canale sta andando molto bene a confronto di mesi fa perché credo siamo una bella coppia quello è da dire sicuramente sì credo stiamo usando tanto della nostra amicizia a nostro favore alla fine ci conosciamo da dieci anni e passa e credo stiamo solo facendo vedere tanto di quello che non facciamo vedere adesso lo stiamo facendo vedere quindi quando ci mandiamo a affanculo si può dire scusa assolutamente sì tipo lo diciamo in camera tipo siamo molto più trasparenti e credo non sì credo è solo quello e abbiamo anche iniziato a fare cose che sono un po' più standard nel mondo youtube che sappiamo vanno meglio di altri contenuti quindi siamo diventati un po' commerciali però commerciali non è la parola giusta però in quel senso tipo se posso aggiungere qualcosa alla fine io sto su youtube da anni ormai sono quattro anni o qualcosa del genere e con l'esperienza di youtube vedi i momenti di picco come vedi i momenti più bassi e se questo lo estendi su quattro anni forse riesci a capire e avere una buona idea di cosa sta succedendo alla piattaforma la piattaforma non è sempre uguale la piattaforma alla fine è creata da persone utenti e pre-covid covid post-covid la gente è cambiata e io ho sempre voluto e provato e spinto il fatto di provare a fare soprattutto informazione magari packaged in un formato magari più più digeribile bravissimo più digeribile su Kaizen letteralmente è iniziato come sai cosa parliamo del nostro brand facciamo vedere i pensieri dietro e vediamo come va e abbiamo fatto due stagioni non mi ricordo semmo a 20 25 episodi dove ogni episodio era un tantino più meno mirato sul divertimento più mirato su facciamo vedere cosa stiamo facendo e come la stiamo costruendo e per carità io ero felice e andava benissimo c'è però una cosa da dire che su youtube è un pochino come se fosse un gioco e se tu vuoi andare al massimo su youtube ma decidi di non giocare al gioco non ti puoi aspettare di arrivare di crescere o di arrivare chissà quanto in alto ci sta praticamente un limite come si dice inherent inerente c'è un limite si dice inerente in italiano si si dice non so continua la frase poi vediamo c'è un limite inerente a tu che tipo di persona sei e quanto puoi crescere su youtube per via anche del contenuto che decidi di fare e questo lo si vede tanto quindi dopo aver provato fatto due stagioni abbiamo visto che andava bene avevamo costruito e abbiamo costruito un audience che ci segue per chi siamo per il fatto che siamo seri o comunque io sono più serio e queste cose qua ma effettivamente ripensando pensando anche a come stava andando post covid eccetera eccetera e c'era anche un lato di semi che non usciva in questi video perché erano appunto più seri e semi un po' più cazzone semi 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 e quindi letteralmente ci siamo messi a tavolino abbiamo discusso parlato e abbiamo pensato proprio a fare uno switch di strategia in un certo senso che non abbiamo idea di come stia andando veramente perché alla fine c'hai il feedback numerico ma poi non sai il vero impatto sulle persone e io alla fine avevo iniziato tutto per impattare le persone che è come fai anche te di base tu fai video informativi per lo più informativi dove se sono 30 minuti di video perché tu avevi 30 minuti di cose da dire fai 30 minuti di cose da dire e piano piano stai ovviamente provando anche tu a packargli in un altro modo magari renderlo più vloggato la gente magari vede una connessione personale con te però impara pure qualcosa eccetera eccetera per me la realizzazione è che se tu vuoi se tu vuoi di più su youtube come in qualsiasi cosa se tu vuoi di più ma continui a fare la stessa cosa quella un po' era l'avevano attribuita la definizione di di pazzia di pazzia no che tipo fai la stessa cosa e pensi di poter andare meglio è un pochino quello è tipo abbiamo discusso su questa cosa se mi aveva questa cosa che veniva da dentro un'intuizione un gut feeling no? hai presente quando c'è un feeling no? di stomaco sì sì esiste esiste questo è tipo quello che se uno vuole espandere cresce così si deve fare io gli ho detto apertamente magari non è la scelta che farei io però alla fine devo ascoltare anche chi mi sta accanto e da quando abbiamo iniziato i numeri sono raddoppiati non sappiamo poi come andrà con l'ancho o meno non sappiamo l'impatto reale però in termini numerici si è subito visto su youtube e questo è quanto sì sì penso sì cioè è una cosa che da anni ci siamo sempre detti sarebbe figo da fare non l'abbiamo mai fatto sia tipo io quando ho provato da solo sul mio canale poi Giulio e tipo fa un po' senso tipo ci complimentiamo a vicenda e quindi fare un canale insieme fa senso infatti penso la gente gli sta piacendo credo sono un po' scioccati anche di vedere Giulio in questa nuova luce tipo perché se tu lo segui da anni tipo vedere Giulio che veramente se la taglia ride e fa queste cazzate con me è veramente tipo sembra non lo so un gemello quasi però mi piace a me mi piace personalmente perché tipo questo è anche il Giulio che io sono cresciuto cioè questa era la persona che per cui tipo siamo diventati migliori amici ovviamente adesso è un po' più serio abbiamo più stress abbiamo più cose nella mente non abbiamo tempo per fare i stupidi ogni giorno così però mi piace far vedere alla luce anche che siamo un po' ragazzi normali romani che gli piace divertirsi anche noi non siamo completamente seri come questa faccia adesso che hanno sempre aumentato no no ma perché perché poi sembra sembra che siamo sicuri della scelta ma in realtà quello lo puoi essere solo col senno di poi no il fatto è che ogni scelta che fai ti apre una nuova strada quindi se fossero rimasti come prima più o meno potevamo estrapolare e dire ok se continuiamo così visti i 20-30 video di prima possiamo vedere dove andremo a finire questa è un'altra scelta un'altra strada che non sappiamo perché io non l'ho mai provata non diciamo è una cosa che io personalmente da solo non avrei fatto ma c'è Sammy che spinge e vuole fare questo quindi è una scelta e c'è chi lo accetta chi non lo accetta chi alla fine segue anche quello che io ho creato per anni ha una figura è un personaggio in me in testa e questo magari gli crea una sconnessione no perché tipo no ma non è così lui e quindi c'è questo effetto un pochino difficile da accettare e capire ma non puoi far felici tutti e la cosa importante fai una scelta e poi continui non ti puoi più dubitare devi continuare dagli tempo 3-6 mesi 8 mesi e vedere dove vai e questo vale per quello che stiamo facendo noi su YouTube vale per te il cambiamento del contenuto del formato vale per qualcuno che sta all'università o al lavoro cioè non vedrai subito i risultati della tua scelta solo col senno di poi dopo qualche mese lo vedi avete fatto un sacco di punti interessanti che vorrei sottolineare specialmente il fatto del Giulio è così e semi è così però secondo me c'è da considerare anche il fatto che per quanto riguarda il vostro cambio sul canale Kaizen cioè considerare il fatto che non è la strada di Giulio da coach e quindi lì ci sarebbe stato che un canale di fitness tutto a un tratto passa da parlo di informazione parlo di cose noiose e poi mi butto dentro laghi e dentro stagni nel video dopo e lì ci sarebbe stato secondo me un po' di incomprensione da parte del pubblico non capire che cosa sta succedendo mentre dal punto di vista di Kaizen dal punto di vista di se vogliamo un'azienda che sta nascendo che vuole vendere un prodotto che sia inerente al fitness ma non è informazione di fitness è contesto è abbigliamento è tutta un'altra cosa non deve fare informazione Kaizen almeno per ora poi non so quale sarà la vostra idea nel futuro quindi secondo me ci sta un sacco che vi mettete in gioco in questo modo e capisco che dalla parte del pubblico è normale vedere magari Giulio che fa questo shift strano però è da considerare anche il fatto che è un'altra cosa è un'altra start up è un'altra azienda è un altro canale e i contenuti che si producono necessariamente devono essere diversi e ci sta un sacco e comunque io tipicamente non seguo questo tipo di contenuti seguo voi ho iniziato a seguire voi perché mi sono affezionato a voi mi fa piacere vedere i vostri video anche quando li guardo metto mi piace scrivo commenti no quando lo guardo scrivo commenti però cioè sì sono divertenti sono molto piacevoli da vedere e si è notato un sacco anche come dicevi tu poi non si saprà come sarà dopo ma in termini numerici proprio di visualizzazioni io ho visto quattro volte più visualizzazioni cinque volte più visualizzazioni rispetto ai video che facevate quanto? due mesi fa soltanto letteralmente penso che hai detto hai ribadito tutti i punti che avrei fatto io anche perché sul fatto che non sarebbe non sono video che guardi tu è perché tu forse sei un target audience diverso sono più noioso no ma se posso anche essere sincero non sarebbe nemmeno il tipo di video che guardo io sì ma infatti tu e Giulio non siete il nostro target audience tipo perché alla fine Giulio cioè hai 80.000 su YouTube ha preso letteralmente ogni italiano che tipo va tipo nella scienza tipo per come crescere un muscolo conosce Giulio praticamente su YouTube no quello non è il nostro target audience noi vogliamo prendere gente normale che fa qualsiasi cosa nella vita che è italiano che è magari interessato anche a quello che ci mettiamo perché questo stile è minimo è bello qualsiasi persona della nostra età se lo vorrebbe mettere quindi non vogliamo solo gente che va in palestra vogliamo gente che è qualsiasi persona no studente pizzaiolo che ne so qualsiasi cosa anche gente a cui non interessa di quante quante serie allenanti devi fare a settimana ci sta esatto esatto però se ci pensi avete anche conquistato gente a cui interessa questo tipo di roba quindi avete un pubblico molto molto vario sicuramente sotto questo punto di vista è quello che stiamo cercando di fare alla fine non vogliamo solo stiamo facendo come hai visto i video mangio e mi alleno come X che ovviamente sono più sportivi andiamo in palestra però poi cerchiamo di fare questi video come dico sì al mio amico per 24 ore che ne so giornata ammanettato verità o bevi cerchiamo di fare questi video che sono completamente diversi così che magari prendiamo pure gente che gli piace guardare un video a spazio e il nostro punto che stiamo focalizzando è anche che vogliamo che la gente li vedi e si diverta con noi e quindi come hai detto che si affeziona io voglio fare un mangio e mi alleno come semi non sarebbe bello sarebbero cose tipo al microonde sì tipo non ti piacerebbe affatto daresti tipo almeno almeno un microonde mio sicuro poi se posso se posso aggiungere una cosa comunque anche tu mi ci hai fatto qualche video simile non magari con personaggi generali ma più specifici al fitness anche che conosco io mangio il mio aleno come israel sì io ho quella rubrica come si dice quello stile di video lo sto cercando di sfruttare per farti entrare nel video e poi ti propongo roba pallosissima perché una persona che clicca sul video non si aspetta che io parlo così dettagliatamente del protocollo d'allenamento alimentazione si aspetta che io mangio come un animale mi alleno con metodiche che non c'entrano niente col mio protocollo e si divertono così io invece li attiro in questo modo e poi parlo come se non ci fossero mai di cose tecniche stanno piacendo relativamente le persone che mi seguivano già lo stanno apprezzando le persone che non mi seguivano magari potrei attrarre qualcuno in più come no però sinceramente sono arrivato a un certo punto che comunque come stavo dicendo prima per Giulio il mio lavoro è fare il coach quindi quello che interessa a me sicuramente c'è il pubblico che voglio attirare io con cui voglio parlare io è sicuramente diverso da quello con cui vuole parlare Kaizen e ci sta che abbiamo una metodologia diversa di parlare ci sta che abbiamo numeri molto molto diversi sicuramente perché adesso sicuramente Kaizen crescerà di brutto facendo questo tipo di contenuti ve lo auguro e andrà tutto alla grande e io piano piano mi avvicino a voi e mi mandate gente da con piacere se succede così siamo proprio e vincere una cosa spero Ma se c'è una cosa che alla fine non è mai successa con me e con noi, non ci siamo mai fatti dare i numeri alla testa, perché i numeri sono solo un'indicazione momentanea di un momento particolare in cui magari hai fatto qualcosa e i numeri sono saliti. I numeri non vogliono dire niente, alla fine noi siamo persone e non ci siamo ancora beccati, ma il motivo, cioè riusciamo a parlare e speriamo che stiamo dando qualche valore a chi ascolta e quella è l'unica cosa che a me interessa. Quello è il mio obiettivo, ogni cavolo di volta che facevamo un video per il mio canale, chiedi a Sam, io ero tipo no Sam non ho messo abbastanza valore, non ho messo abbastanza valore, non ho messo abbastanza valore, cioè questa era l'unica cosa che dicevo, infatti con lo switch di Kaizen, con tutti questi video, io ero tipo quante volte sono venuto da te e ho detto ma non è che possiamo includere, ma perché hai tagliato questa parte? Ma perché da capire che gli obiettivi non sono tutti gli stessi, cioè se il tuo obiettivo è tipo andare benissimo al lavoro o andare ok, è diverso il lavoro che c'è dietro, è diverso il tipo di strategia. Se tu vuoi andare fortissimo come coach online o quello che è, è diverso la strategia e l'obiettivo rispetto a qualcos'altro che magari è appunto portare avanti un abbigliamento e quindi provare a trarre più gente diversa possibile. E questa è una cosa da considerare. Assolutamente sì, è il punto che volevo fare, su cui volevo prendere di più facendo questo episodio. Specialmente anche, a me capita di leggere i commenti sotto i video, sotto l'ultimo video ho visto persone che erano un po' disappointed su quello che stavano vedendo. Esatto, siamo arrivati al punto in cui Giulio traduce il mio inglese, la fine, sta succedendo di tutto. Mi piace, mi gusta, mi gusta. Ora, piano piano inglese, poi un po' di spagnolo, un po' di francese. Va bene. Ma quante lingue parlate voi? Io sto a italiano, inglese, francese, spagnolo, in Spagna me la cavo. Minchia. Io, inglese, italiano e un pochino di tedesco, probabilmente, direi. Ma minimo. E spagnolo, buttiamocelo pure là, giusto per fare il figo. Con gli spagnoli è abbastanza semplice per noi italiani. Sì. Io quando ero andato in Spagna non capivo un cazzo, però vi sto parlando di una decina di anni fa. Dove sei andato? Ho fatto Barcellona, Valencia, ma è classica vacanza di famiglia, niente di... Eh, lì hanno i diletti. Eh, c'hanno i diletti. Quindi c'è tipo, Barcellona ci sta, il catalano non è manco spagnolo normale. Non è spagnolo, è tipo napoledano, gergo, per farti capire. E sentite, come mai vi siete stabiliti a Lussemburgo? Quella è un'ottima domanda e è divertente perché ogni singola persona che incontro ha... No, ma poi è sempre lo stesso punto che posso capire e accettare senza problemi. Che è tipo, ah ma sei andato lì perché paghi poche tasse. No? Perché quella è... Lussemburgo era un paradiso fiscale, era un pochino come la Svizzera. Quindi potevi aprire un conto in banca senza dare un nome, la tassazione era bassissima, ma non è così assolutamente adesso. Cioè, adesso è come l'Italia se non di più. Comunque tu non so se sei sul regime forfettario, che so io, ma quant'è lì? 15%, 20%? Sì. Nei primi anni è giusto. Qua la tassazione è come se fosse un regime completamente normale in Italia. Ok? Quindi non è il fatto del motivo dei tassi, è il fatto che io ho la residenza a Lussemburgo perché sono nato qua. Ok. Perché i miei genitori sono venuti qua a lavorare 30 anni fa e io sono nato qua e poi ci siamo spostati a Roma. Il fatto che io sono nato qua mi ha permesso che io posso avere il doppio passaporto, posso avere il passaporto lussemburghese e quello italiano. E tutto quello che faccio qua è agevolato. Quindi per me è stata una scelta di, ok, apro in Italia e quando sento e quando incontro ragazzi che provano a fare delle cose in Italia ci sta sempre i casini di mezzo, mesi di trovare documenti giusti, non riesci a contattare le persone, contatti un ufficio, ti manda all'altro 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 ufficio. Qui sono solo 500.000 abitanti, quindi qua è tutto molto più piccolo, molto più facile e alla fine la mia scelta non è stata di vita, anzi la vita qua non è granché per due ragazzi, soprattutto per Sammy che è single e dobbiamo ribadire questo punto, Sammy è single. Ti capisco Sammy, ti capisco. No, 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 è solo una tematica che come avrai notato anche dai video si deve sempre dire, secondo me a furia di dirlo tipo cambia, no? Vabbè, si prende a scherzo dai, si prende a scherzo. Eh? Ma no, ma che scherzo, è la verità. Non c'è niente da scherzare caro. Ma dai, non deprimiamoci per queste cose, stavi dicendo. Eh, no, no, ma tranquillamente. Le cose arrivano quando non le cercate. Ah, io non sto cercando da un po' adesso, però non cazzo, eh. Però, vabbè. Di avere pazienza come in tutto, lo sai. Ah, ok, ok. E quindi alla fine qua è veramente, il motivo è la logistica e la facilità con cui fare le cose, e il fatto che vedo, io pago le tasse qua e vedo dove vanno i soldi, cioè i mezzi pubblici sono gratis. Sono gratis pure in Italia se non paghi il biglietto, quella è la cosa solita, giusto? Però qua letteralmente sono gratis, e qua si vede dove vanno i soldi, no? E' tutto più facile logisticamente per import-export, è veramente stato difficile la prima volta, ma poi è facilissimo, ci conoscono, saremo tipo, bro, ora faccio una cosa che mi vanta un pochino, sarò tipo l'influencer più famoso lussemburghese, capito? Quindi tipo a noi ci trattano come superstar, qua. Bomba, bomba. Siamo tipo considerati, viviamo in questo tipo posto, tipo zona dove ci stanno tutte famiglie, gente un po' più vecchia per così dire, e tipo tutti qua nel nostro palazzo ci conoscono come quelli che fanno YouTube, tipo, ho volato il drone, sì no, ho volato il drone, ho quasi beccato uno in testa, e stavano, no no tranquillo, perché noi siamo quelli che fanno tipo i video della zona, quindi stavano tipo, sì tu promuovi tipo questa zona grande, insomma. Turismo. Sì, è sicuro, è finito. Sì, effettivamente se ci pensi un paesino sperduto, tra virgolette, arrivano due ragazzi a caso dal nulla e vanno in giro con intercambia. Esatto, esatto. Sì, più o meno è la situazione in cui mi trovo anch'io qua comunque. Sì, sembro. Che fai qualcosa di diverso e quindi tutti lo sanno. Però il tuo studio sembra molto figo, quindi... Sì, ci voglio venire, è una bomba. Avrei migliorato la luce, eh? Dovessi migliorare le luci. Sì, hai perfettamente ragione, però io a queste cose non ci penso. Cioè, il passo prima di questo studio per me era dietro casa mia sopra dei pallet, sotto la pioggia, quindi... Capito. È uno step up comunque. Direi che è un bello step up. No, no, sembra una bomba, pure le macchine, cioè... Vedendo dai video io non vedo l'ora, perché hai pochi pezzi, ma si vede proprio che, vabbè, hai la conoscenza e ti sei scelto i pezzi per fare tutto quello che vuoi. È, assolutamente. Devo dire che mi manca un sacco andare in una sala pesi piena di cose anche inutili, quello mi manca un sacco. Però qui effettivamente ho tutto quello che serve per allenarsi. Io voglio venire, il fatto che secondo me l'unica cosa da migliorare è la luce. Noi siamo molto attenti alla luce, noi giriamo tutte le palestre e se tipo la luce non ci piace non ci stiamo, perché alla fine vuoi rendere delle cose carine da vedere alle persone. Esatto, e tu ti chiedi perché sono così grosse, è tutta la luce. E cazzo, eh, allora è per quello. Allora, facciamo così per bene in questi mesi. Quando venite mi date qualche consiglio per la luce e io cerco di aggiustare, va bene? Vai, facciamo così. Così divento grosso anch'io come semi. Ah, vabbè, così è difficile. Ah, cazzo! Cioè, quando c'è la genetica a favore, tipo, c'è poco da fare. Ah, è quello, non c'entra niente la luce. È solo quella, è solo quella. Va bene, va bene. Allora, smetto di mettermi questi obiettivi irraggiungibili. Grazie, sì. Cioè, te lo dico dal cuore, è altro che per roba scientifica, zi, è genetica, tutta genetica. Se notti mi sono messo anche la felpa come te, perché voglio... Però non ce la faccio, non faccio. Ti provi, però. Io ci provo, faccio il cosplay, però... Good time. Quindi quello... No, stavamo dicendo, la scelta di Lussemburgo è letteralmente perché funzionano le cose e logisticamente qua, la scelta era per i pacchi, perché far arrivare i pacchi in Italia per poi spostarli, per poi fare questo, per poi fare quest'altro, costava molto di meno, perché qua costa tutto un bordello, costava molto di meno, ma ci sarebbero stati intoppi continui. Qua invece è un fatto di tipo, arrivano i pacchi, mi chiamano e io vado a prenderli. Il giorno stesso. Ma puoi anche considerare il fatto che quando mandi il pacco, arriva in una velocità impressionante. Ripeto, non voglio fare lo stronzo per dire che sono in Sardegna, però qua di solito le cose arrivano davvero una settimana, due settimane dopo. Invece, cioè mi mandi il messaggio, Michio ho spedito il pacco, mi arriva davvero, in settimana mi arriva, entro 4-5 giorni mi arriva, è una bomba. A volte pure pria, a volte uno o due giorni. Esattamente 4-5. I pacchi che inviamo a Roma, a Milano, a Torino, il giorno dopo. Se io li spedisco alle 8 di sera, arrivano entro il giorno dopo. E quello è un costo enorme. Ed è un costo che noi non mettiamo sui nostri, sulle persone che acquistano, è un costo che noi ci pigliamo noi. Però è la scelta perché, veramente, quello che stiamo provando a fare con Kaizen, a parte unire tutti per la filosofia, il messaggio che non abbiamo proprio parlato, e magari siamo a di Kaizen, 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 la gente manco lo sa. Adesso lo diciamo, promesso. Che questa filosofia di provare sempre a migliorarsi è, diciamo, una tecnica, uno strumento utilizzato e nato in ingegneria, nella Toyota Production, ma poi che si è sparso dappertutto in, come si dice, in healthcare, quindi negli ospedali, in tutti gli ambiti. Tutti gli ambiti. Tutti gli ambiti. Studi e studi, articoli e studi che sono stati applicati in tutti gli ambiti. E quindi a parte questa filosofia che vogliamo spargere il più possibile, c'è anche il fatto che se noi creiamo una cosa, deve essere una cosa speciale e unica. E noi mettiamo, alla fine, chiunque acquista, i nostri clienti, odio la parola clienti, ma mettiamo clienti, i ragazzi che acquistano, l'esperienza deve essere in primis e tipo quella è la nostra priorità. Quindi vuol dire, spedizione il giorno dopo, non mi frega se costa 40 euro la spedizione. No? Quello ci becchiamo noi il costo, ma noi lo facciamo arrivare il giorno dopo. E sai quanto è bello ricevere messaggi? Abbiamo tipo 250 recensioni sul sito con una foto, siamo a 5 stelle su 5 e la gente che ci dice questa qualità è meglio della Nike, è meglio della Adidas, oppure le spedizioni siete più veloci e rapidi di Amazon. Ok? Quindi quello per me è tipo quello che stiamo provando a costruire. Magari fallirà, perché magari tipo le decisioni che stiamo facendo non sono con profit first. Non sono dobbiamo farci soldi. Zero. Non è quello, è tipo provare a sparge, provare a creare qualcosa di unico, c'è un periodo di investimento, un periodo di crescita che per forza di cose per un paio di anni devi metterci soldi e non è che ti fai soldi indietro, ma speriamo che chiunque acquisti apprezzi tutto questo lavoro che c'è dietro. Alla fine anche la scatola che ti mandiamo a te, è tipo una scatola, il foglietto, il coso, tutte le etichette fatte da zero. Proviamo a metterci una cura di tutti questi piccoli dettagli alla fine. Col primo unboxing ero super esaltato. C'era bellissimo. Era bellissimo. Non ho fatto il messaggio personalizzato, tipo col cuore, mi dispiace. Ci sono rimasto malissimo, io l'ho cercato tutto il tempo. Eh, lo so, mi spiace. Me lo scrivi dopo su WhatsApp, lo leggo. Sai che abbiamo finito di fare i pacchi, li abbiamo fatti in un giorno, abbiamo finito di fare il tuo, tipo a mezzanotte stavamo fuori di testa. Credo c'era un video su Kaizen dove una clip, cioè era proprio l'ultima, proprio dove stavo, io stavo scopato, non quel tipo. Finendo di spazzolare, abbiamo finito a mezzanotte a fare tutti i pacchi e poi te l'abbiamo mandato, tipo il giorno dopo a tutti voi ambassadori. E siamo partiti per Roma. E poi stiamo partiti per Roma. Ma a Roma quanto ci siete stati? Noi due una settimana, i due ambassadori che abbiamo invitato, che erano Riccardo e Luca, sono venuti in giornata. Quindi letteralmente hanno preso il treno, arrivati, fatto qualche foto, treno per tornare. E infatti non è che potevamo chiedertelo pure a te. No, stavo chiedendo perché mi avete incasinato la linea temporale mettendo i video da Giulio, da Kaizen. Il mio cervello è esploso, non capivo più un cazzo. Stanno a capire dove stavano, infatti. Oggi ma sta a Roma, dico. Ma per farti capire abbiamo, la settimana prima di partire, perché sapevamo che non abbiamo fatto una settimana fuori, abbiamo filmato cinque video quella settimana. E' per quello, immaginato. Quindi stavamo abbastanza fuori di capoccia per quello. Però si doveva fare quello che noi chiamiamo il grind period. A volte lo devi fare, non è sempre così. Però a volte devi un attimino spingere sull'acceleratore, dormi di meno, buone abitudini a volte se ne vanno un po' fuori, la palestra magari è in secondo piano. Priorità, è un'azione di priorità del tempo. E' bello quando lo puoi fare, quando scegli di farlo, è sicuramente ancora più bello. Lo apprezzi di più, sai perché lo stai facendo. Comunque per tornare indietro al Kaizen, nel mio piccolo ho notato anche nella qualità del prodotto. Non voglio dire la qualità, perché anche gli altri prodotti erano di qualità. Però preferisco cento volte questi. Non so perché, non so se è la qualità, se è la scelta, se non lo so. Però ho visto tutto il miglioramento, quindi Kaizen di brutto. E poi volevo chiedervi, per una persona che si vuole approcciare a un percorso simile al vostro, se doveste consigliargli in 3-5 punti, che passi fare, in ordine cronologico o meno, che cosa gli consigliereste? E quanto è importante farlo in team? Io ti posso dire... Sì. No, è una bella domanda. Difficile semplicemente perché dipende... Alla fine il primo punto che dico dipenderebbe da in che contesto si trova la persona, da dove viene, se è studente, se ha 14 anni o 16, o se sta lavorando e c'ha dei soldi messi da parte, quindi può sfruttare alla fine i soldi per andare un pochino più rapidamente. Di base, non è una cosa su cui ci vai soldi, proprio chiaramente finché non arrivi a una scala. Quindi, tipo, devi considerare che alla fine tu ci lavori online, e online è abbastanza bello, nel senso che magari c'hai meno costi del prodotto, quindi costi proprio, sì, della merce, in più anche non hai, tipo, che ne so, magari dei overhead tu ce l'hai perché ora c'hai lo studio e devi pagare elettricità e tutte queste cose qua, che alla fine la gente non ci pensa, ma alla fine è un costo, no? Però, quello online non c'è, con l'abbigliamento il costo della merce è importante. Quindi, non ci vai a fare i soldi finché non vai a fare una scala grande, e per farci i soldi devi aumentare i prezzi e mettere, tipo, un margine parecchio alto. Che non stiamo facendo? Un margine parecchio alto vorrebbe dire che noi, che magari iniziamo una startup o quello che è, un hoodie non lo possiamo mettere a 50 euro, lo dobbiamo mettere a 100, ok? Se ci vogliamo fare dei margini normali. Noi ci siamo messi opposti a questo perché io e Sam in primi spensiamo a me e lui e né io né lui spenderemo così tanti soldi in abbigliamento perché alla fine non siamo così attaccati al materiale, alle cose materialistici, al fatto di spendere un botto di soldi per cose alla fine inutili o comunque per brand quando, tipo, sti cavoli. Come dice Gary V, no? You spend a lot of money to impress people that don't even care about you, no? Tipo, per provare... E quindi... Guarda, nel mio piccolo, mi introduco un attimo in questo discorso, e quando vedo una maglietta di marca non guardo neanche il prezzo, non la metterei perché ha quella marca e mi dà fastidio. Poi non spari, è un ragionamento stupidissimo, però ho sempre avuto questa... fare un passo indietro nel momento in cui vedo la marca. Infatti io mi vesto con cose completamente bianche, completamente nere, così. e Kaizen effettivamente, adesso che ci penso, è la prima marca che sfoggio con tanto orgoglio. Grande. Questo sì. Grandissimo. Se, per non rendere a lunga i pochi punti, in primis appunto, accetta che non... Se è una cosa che vuoi fare per fare i soldi è il motivo sbagliato. Due, ci serve un investimento iniziale di uno o due mila euro per qualsiasi mini batch che vuoi fare e poi questo è un investimento che continui a... Se vuoi crescere funziona che tu puoi fare il lancio di cento pezzi, magari ti copri i costi, però poi vuoi crescere, fai il lancio di due, trecento pezzi, devi investire di più, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che mille, due mila euro, se poi ti va bene e ti auguro che chiunque voglia iniziare gli vada bene, però non è che poi inizi a far profitto e tutto bellissimo, tipo devi continuare a reinvestire e inizi a reinvestire sempre di più e sempre di più vuol dire che c'è sempre più rischio ogni cavolo di volta e c'è anche un po' di paura se non l'hai mai fatto. Capito? Perché poi inizia, ok, mille, duemila, ok, duemila, tremila, quattro mila, cinquemila, cinquemila, diecimila, diecimila, eccetera, eccetera. No? Quindi quelle due cose, in primis, la terza cosa devi essere, ci saranno molti momenti in cui devi fare, devi trovare tu la soluzione ai problemi. Ci sono problemi con le spedizioni, con se lo devi importare da fuori EU, devi farlo. Se devi, le spedizioni, cioè c'è tutto un mondo di logistica che noi possiamo chiamare il back-end, che magari io l'ho studiata perché ho fatto ingegneria della produzione, quindi avevo contatti, avevo conosciuto, ho fatto tutte queste tecniche. Questo ti ha aiutato comunque? Eh beh, certo. Il fatto di dover prendere il telefono e chiamare cinque diversi produttori o mandare duecento email per trovare il produttore giusto, io lo faccio automaticamente per un'altra persona, potrebbe non essere così automatico. No? Infatti quello che dice sempre Sammy, quando io spiego, è tipo, ah sì sì, è facilissimo trovare un produttore, cioè perché per me è tipo, ah sì no, è facilissimo, e intanto c'è lui e dice, ok, regà non è così facile, è tipo facile per Giulio. Capito? Quindi ci sarà quello. Questi sono i miei punti e poi l'ultimo, hai detto il team, sicuramente il team è bello crearlo se vedi che ti serve aiuto esterno oppure se non hai le capacità a sufficienza per fare qualcosa. E meno male che a me c'è stata ovviamente una learning curve con Sammy che ha iniziato e non sapeva niente. Io ho insegnato un po' di editing e ci ha messo un paio di anni per tipo sviluppare il suo stile per continuare a migliorare e adesso è un editor molto più bravo di me. Una bomba. Una bomba, sa fare tipo, sa fare tutto e di conseguenza a me c'è stato quel periodo di investimento dove io dovevo insegnare a lui e dove ho dovuto attendere, tra virgolette, ma poi è tipo schizzato e adesso io non devo fare niente se ci serve un editor o quello che è CSM. Stefi è il nostro tra virgolette fotografo e videografo che vogliamo sempre per avere una uniformità nelle campagne e nelle foto e nei video ma anche perché lui è un professionista quindi lui sa tutto delle, non solo delle telecamere ma della luce di dove mettere un soggetto se vuoi fare una foto fatta bene è molto artistico l'ha studiato all'università e abbiamo un altro ragazzo che è Alessio Alessio è molto bravo in tutto quello che è design e titoli e render e queste cose qua su cui io non è il mio skill set Sammy non è il suo skill set cioè questo ragazzo che è più bravo di noi in queste cose allora lo metti a lui nella posizione per farlo ovviamente il team è costo è responsabilità non sono più da solo ed è una cosa che appunto ti toglie ancora di più dai soldi quindi veramente non è una cosa che devi fare per i soldi perché non li fai i soldi però è una cosa che se hai una visione un obiettivo vuoi creare qualcosa di grande tipo alla fine da solo come dice come diceva Nick Bear da solo puoi andare rapido ma non so quanto vai lontano invece tipo se stai in team magari vai più lento ma probabilmente vai più lontano siccome sono molto per il obiettivi realistici quanto è realistico per una persona che parte da zero poter intraprendere una cosa del genere per voi che l'avete fatto perché io da come mi hai fatto come mi hai presentato questi punti io la vedo molto molto dura lo è cioè dobbiamo essere realisti assolutamente sì no non lo sto criticando in nessun modo no no devi comunque devi avere un following devi avere persone che ti conoscono devi avere i modi per rispargere la voce cioè comunque alla fine devi avere persone che sanno di te che si fidano e poi vogliono comprare quello che stai vendendo cioè è tipo una procedura che è lunga e se tu non hai un modo veramente per arrivare alle masse io sto parlando di centomila persone tipo o cioè persone o tipo fai shout e chiedi a questi mega influencer pagando migliaia di euro per farti uno swipe che non funziona perché non è il modo per fare una start up non funziona così oppure fai un team di gente che ha un micro influencer che sono molto più potenti dei bigger influencer realisticamente se tu non hai una piattaforma che va e è grande è tipo è difficile in generale iniziare secondo me secondo me anche ma io direi che la risposta è la stessa risposta che io magari alla domanda che io ti farei a te che è del tipo se qualcuno ti dicesse ah Mitch voglio essere uno youtuber qual è la tua risposta? inizio è tipo sì ma ma magari tipo se ci tieni bene a questa persona gli dici inizia ma è decisamente più difficile di quello che pensi ci metterai due tre anni devi essere costante e mettere due tre video a settimana per due tre anni ci potrebbe essere un periodo di sei mesi dodici mesi dove non andrai da nessuna parte e io che lo sto facendo da x anni questo è il mio risultato e poi la scelta è loro e non è che io non è che noi siamo tipo non li stiamo provando a tirare giù però come hai detto te gli stiamo dando magari esatto proprio voglio la cosa concreta poi alla fine perché è vero la stessa cosa si applica per youtube la domanda che mi hai fatto come iniziare su youtube però è anche vero che iniziare su youtube è gratis puoi intraprendere una carriera lavorativa che ti porta magari sull'e-commerce e quindi non hai spese sotto questo punto di vista mentre iniziare a intraprendere un percorso in cui devi fare un sacco di investimenti fin dall'inizio e non guadagnare un cazzo dall'inizio e aspettare un sacco di tempo per iniziare a guadagnare è sicuramente una cosa che fa pensare e che ridimensiona molto anche per l'individuo comune tra tante virgolette appunto approcciarsi a un percorso del genere questo era un po' il messaggio che volevo far passare che non è così semplice per quanto noi possiamo dare consigli per quanto si possa dare indicazioni per quanto si possa prendere spunto da esperienze come quella come la vostra c'è sempre un passettino indietro un sacco di timore sotto questo punto di vista per iniziare per consigliare per qualsiasi alla fine strada nuova c'è sempre un rischio no alla fine anche quello che hai fatto te su youtube stai mettendo così tanto tempo metti che non succede niente c'è l'opportunity cost non il costo di opportunità che tipo tu tutto il tempo che hai investito qua lo potevi mettere da un'altra parte magari avresti fatto qualcos'altro di meglio di quello che è quindi c'è sempre questo e ripeto tipo per iniziare un brand di abbigliamento a meno che veramente non hai degli investitori dietro quindi non hai tipo un cash flow e gente tipo roba importante ma letteralmente Kaizen siamo al quinto quinto lancio quinto lancio 12 mesi e letteralmente l'unica persona che che ha messo i soldi eccetera sono io e come farlo perché è tutto step by step è tipo fai x pezzi vendi bene fanne un pochino di più bene fanne un pochino di più bene e continui così ma realisticamente come è adesso è una cosa che potrebbe finire al prossimo lancio perché se tu metti dei soldi e sono soldi importanti e poi dipende veramente tutto da quei soldi e se ci sta per caso un momento in cui quei soldi non li rifai è più complicato e devi pensarci in poche parole proprio perché ovviamente poi se hai i soldi se hai investitori esterni se hai una banca che ti dà un prestito quelle sono tutte scelte da fare io sono sempre rimasto dell'idea che ogni cosa da costruire deve essere step by step perché impari e tipo sicuramente ho sottovalutato Kaizen 100% l'ho iniziato ed era ah che bello divertente facciamolo e tipo adesso è siamo veramente siamo in ansia responsabilità e rischio e siamo tutti tipo un po' on edge siamo tutti tipo ok perché si tratta di tipo alla fine tanti soldi che servono questa è la verità in questo momento io l'avevo sottovalutata ma questo è l'anno in cui ho imparato di più di tutto e se anche un anno dove magari ho fatto meno contenuti su youtube dove sembrava un po' perso eccetera a parte che c'è stato il covid di mezzo che comunque ha cambiato la vita il percorso di molte persone mette incluso e altri tutti gli altri a parte il periodo del covid è proprio il fatto che con una cosa che mi spinge così tanto out of your comfort zone roba che non ho mai fatto prima roba che sognavo ma che adesso diventa vera il fatto che ogni cosa è tipo costruita letteralmente da zero e che ogni lancio è imperativo che vada bene per poter continuare a farlo decisamente sottovalutato però abbiamo imparato tanto ci stiamo divertendo e tra virgolette male che vada è stata un'esperienza incredibile che ha insegnato molte cose sia a me che a Sammy e come ho detto sempre se tipo qualcosa è un fallimento perché le persone il giorno d'oggi hanno paura di fallimento hanno paura di esporsi e poi dover affrontare tutti e dire non ce l'abbiamo fatto abbiamo fallito e infatti anche sui social molte cose sono cavolate molta gente sembra che faccia chissà che cosa e non fanno niente no perché è tutto questo show e per noi è il contrario e il motivo che ho fatto anche il mio contenuto su YouTube è perché di base è un periodo di cambiamento per me dove quest'anno ho avuto la strizza la strizza tipo perché cavolo c'è più gente che dipende da me c'è un brand c'è un'immagine eccetera eccetera ma mai una volta mi è venuto in testa di tipo no dobbiamo far finta come se tutto è perfetto e va benissimo no perché tipo alla fine stiamo vivendo lancio per lancio perché è così tanti soldi e perché abbiamo fatto delle scelte che non è profit first ma è brand e yeah è tipo a volte non mi viene accendere la telecamera la mattina e dire bella regà andiamo a fare questo oggi facciamo il full day of meetings e tipo in quella giornata cioè i casini con le produzioni che i pacchi sono bloccati da qualche parte like no tipo devi ok cosa fai ok email chiama email chiama qua ok che è successo ok quello non ti risponde chiama qualcun altro ci stanno migliaia di euro di roba tipo bloccata da qualche capito e allora poi accendi la telecamera io non riesco io non riesco e quindi magari mi sono chiuso di più perché non mi andava di tipo alla fine chi vuole vedere un video dove una persona è in ansia perché io dovrei essere vero sulla telecamera perché non riesco ad essere finto sì è tutta roba che traspare comunque tutta roba che nel percorso se si è seguito il percorso si è percepita ed è ammirevole se vogliamo sicuramente da questo punto di vista comunque sul fatto del errore del fallimento ricordiamo sempre che fa parte del processo la scienza si è evoluta in questo modo errore analisi ripetere cercando di correggere l'errore eccetera eccetera il fatto è che quando il margine di errore è alto è più o meno grande quando fare l'errore ti costa più o meno e sicuramente ci sono tante cose da considerare comunque l'errore fa parte del processo il fallimento fa parte del processo e come scusa come l'abbiamo affrontato noi letteralmente è stato è stato uno switch in testa ed era non voglio avere rimpianti e voglio andare all'attacco e o la va o la spacca alla fine io di base sono un ingegnere quindi mi va pure bene andare a lavorare per la shell e farmi i miei molti soldini e stare là no? però però quello non era non è quello che idealmente vorrei fare io ma ripeto non c'è come una persona può voler diventare un attore ma se non ci lavori e se non sei bravo abbastanza non ci diventi l'attore se però veramente ci credi ed è quella cosa per cui lavori ogni singolo giorno ti svegli è l'unica visione che hai è l'unico obiettivo che hai e ogni singolo momento che sei sveglio lavori per quello e lo protrai per anni allora per forza di cose qualche risultato lo ottieni è come in palestra è possibile che ho visto anche il tuo video sulla trasformazione in tutti questi anni e ci sarà gente che non è nella tua situazione che non è te che non ha la tua genetica che non è che si fermerà anche magari solamente a dire tipo eh ma eh bla è quello che è ma se tu pensi realmente al cambiamento che hai fatto in così tanti cioè così tanti anni che ci hai messo impegno è la stessa cosa la palestra è tipo maestro di vita esatto perché è quello è quel risultato piccolo che ottieni perché ci lavori e ci sudi no? che è impercettibile è impercettibile che ci metti le ore ogni singolo giorno è impercettibile il breve termine è impercettibile esatto e se non se non lo fai veramente con passione con dedizione non puoi sostenerlo per tanto tempo è un po' quel detto che scegli ti lavoro che faresti anche gratuitamente no? quindi lavorare perché alla fine sarà così stai lavorando gratuitamente perché la percezione del risultato è infima se non nulla e quindi dovrai farlo semplicemente guidato da una forza interiore che si chiama abitudine si chiama volontà come volete chiamarla però poi sai che bello dopo 10-15 anni di allenamento natural che tipo arrivi a un punto dove magari la gente a quel punto ti inizia a dire se natural di che tu dici lo aspettiamo io lo sto aspettando anch'io il primo che me lo scriva sì esatto però lo sai come lo so anch'io che non è 10 mesi è 10 anni se hai una genetica normale esatto poi c'è Semmi Semmi dillo sei doped ecco questa genetica sì ragazzi dove te andrà ad allenarvi voi no noi andiamo alle 2 2 te devi andare no io oggi non mi alleno forse non lo so vediamo hai voluto fare un podcast di tipo 5 ore con noi guardate che se volete continuiamo la cosa bella è che questa è la cosa fighissima che possiamo parlare come se fossimo amici a me sembra che stai qua ti abbiamo pure messo su una sedia quindi letteralmente dobbiamo solo mettere un pupazzo sotto o anche la guida grandissimo grandissimo e la cosa che vogliamo fare noi è anche tipo provare a costruire un team di ambassador che seguono la filosofia poi ognuno può avere il suo stile il suo modo accettare delle cose non accettare altre eccetera eccetera ma questa voglia di tipo migliorare perché alla fine deve venire da dentro deve venire da ogni singolo ragazzo se adesso sta ancora ascoltando qualcuno puoi fare veramente quello che vuoi però ti devi dare da fare più di altre persone se vuoi veramente arrivare sopra la media però veramente è tempo pazienza e lavoro e continui ti può andare bene ti può andare male impari impara dalle cose che ti vanno male così che non ripeti quegli errori e vai avanti se c'è qualcosa che stai facendo da anni senza ottenere nessun risultato non pensare che allora quella è la strada giusta perché probabilmente non è una strada giusta però non è una cosa non si tratta di mesi si tratta di anni se una persona si allena per tre anni e non ottiene risultati ok puoi anche dire che magari sei un genetic non responder ma ricordiamoci che ha sempre una bell curve quindi o sei nell'1% nel 2% che anche dopo tre anni non ottiene risultati oppure forse non hai ancora trovato il tuo modo per ottenere risultati assolutamente sì è una questione anche di farlo io penso che il contrario di Kaizen sia proprio la stagnazione ed è probabilmente la cosa peggiore a cui si può andare incontro quindi è anche difficile non intraprendere non avere un'ideologia di Kaizen cioè io non riesco proprio a concepirla una cosa del genere come cazzo fa? allora non è sbagliato non è sbagliato stai attento eh sì devo stare attento a quello che dico però come fai a vivere nella stagnazione? io penso che sia la condizione umana peggiore che si possa raggiungere no? purtroppo purtroppo è una cosa che a volte per esperienza o per cose che succedono o per magari come uno è dentro ci sono persone che ognuno ha il suo tempo e ci sono persone che sono molto riflettono e si fermano ai pensieri e non mettono in atto e quello quello è la stagnazione 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 perché io non penso che la gente non pensi le persone riflettono i ragazzi se siamo intelligenti noi italiani i ragazzi riflettono però ti fermi ai pensieri e non metti in atto e invece il metodo che ti insegnano in tutte le università fuori dall'Italia tipo sti cavoli dei pensieri della teoria devi ficcare in atto ti ficco nel lavoro non sai niente impari perché è così impari quando ti buttano in qualcosa che non sai niente devi imparare per forza devi crescere devi prendere le mazzatte se no non impari cioè stai nella tua zona di conforto che alla fine è la stessa cosa della stagnazione dopo un po' diventa in stagnazione e assolutamente è successo a me è successo a Sammy sarà successo a te oppure succederà perché non è che siamo sempre tutti oi esatto miglioriamo sempre no è normalissimo anche non è che ci stanno i periodi no dove sei più ti adagi un pochino no ce l'abbiamo tutti però quello che vogliamo spingere alla fine con Kaisen è quello che tipo la traiettoria ups and downs magari stai un po' ma la traiettoria tipo ascenderò non posso che fare il riferimento con l'allenamento c'è sempre la fase di load c'è sempre la fase di scarico in cui aspetti in cui fai un passettino indietro per poi proseguire ci sta assolutamente ci sta a rimanere nella zona di comfort per un microciclo però poi il resto del meso e il resto del macro devi farli verso l'alto è una progressione lineare che più o meno lenta deve esserci assolutamente poi pure ci sta pure il modello no che tipo tu esprimi mi sembra la performance è in base a tipo cos'è il fitness e il recovery fitness fatigue ah stimolo fatigue sì sì no che tipo tu puoi allenarti così tanto questa settimana che la prossima seduta tipo magari non riesci nemmeno a progredire ma il fatto che magari appunto c'è fitness e fatica o fitness e recovery non mi ricordo che solo dopo che fai un periodo di recovery che c'hai lo spike in performance beh comunque anche qui è stress recuper adattamento no imponi lo stress devi recuperare per creare l'adattamento se non recuperi vai giù esatto 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 se mi si sta scoglionando io ma guarda più che altro è perché siamo letteralmente tipo sul terrazzo con la cosa aperta con la finestra aperta a zero gradi e fatti tipo sì uno o due gradi quindi io sì le palle infatti questo io la considero la nostra punizione le palle sono tipo rientrate nel culo come all'acqua va bene allora adesso che vi ho fatto soffrire un po' sono soddisfatto da un'ora un quarto mi vedi come dole da tutte le video anche io guarda ragazzi vi lascio vi ringrazio un sacco per la bella chiacchierata grazie a te un piacere non vedo l'ora di vederci anche dal vivo ragazzi vi lascio così non vi ammalate vi ho fatti arrivare all'apice adesso ci hai torturato per bene per il nostro ritardo meritatissimo meritatissimo però vi auguro comunque una fantastica giornata e serata vi ringrazio ancora e ringrazio tutti gli ascoltatori che sono rimasti fino a qua dubito che ce ne siano tanti però per tutti i pochi ringrazio e saluto in ugual misura e con tanto affetto ciao ragazzi e grazie mille grazie a tutti grazie amici per averci invitato